ciao ragazzi un saluto a tutto il gruppo di caravano autonome libera io sono andrea consoli e ecco sto facendo questa riparazione perché purtroppo quando succedono gli imprevisti stavo aprendo lo sportello della cucina della roulotte e niente si è andata a incastrare al tappetino nel corridoio ho fatto un pochino forza per farlo passare sopra il tappetino parliamo di un millimetro due e niente mi è rimasto lo sportello in mano vi faccio vedere che cosa è successo e quello che ho fatto allora vedete si è crepato tutta questa parte si è crepata tutta questa parte che io adesso già rincollato vi faccio vedere la crepa eccola qua lungo 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 mi è rimasto lo sportello in mano in poche parole e io adesso l'ho smontato l'ho incollato bene con la vinavil ho messo i morsetti è stato un giorno ferma con i morsetti adesso insomma è bello bello la riparazione è venuta bene e ho scartavietrato come vedete ho riportato a livello tutto quanto è liscio un leggero scalino parliamo di forse mezzo millimetro vi faccio vedere da vicino 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 vedete allora qui è proprio liscio qui vabbè c'è un pochino di scalino però adesso levighiamo un altro pochino poi andremo a pitturare e poi magari vi faccio vedere al lavoro finito poi qualche botticina vecchia a scartavietrato adesso qua il liscio poi quando ripitturo tutto bianco non si vede più niente ok ragazzi questa era una riparazione che sto facendo e poi lo rimonto sotto la cucina e ve lo faccio vedere montato già finito ok quello è il lavandino che sto riparando lavandino del campo del mio padre questa era la vecchia piletta guardate raga tutto spaccato dovuto ricostruire il pezzo lì mettere la piletta nuova adesso andremo passare la guaina liquida quella fibra rinforzata e poi lo rivernicio e torna un torna nuovo perché non è più nuovo però ritorna in funzione e abbiamo salvato un lavandino originale la verda che non li fanno più ok ragazzi ecco lavoro in corso work in progress rimanete sincronizzati e seguite il canale il gruppo facebook sono sui vari social instagram linkedin id e x ciao ragazzi un saluto a tutti al prossimo video